Quando avvii il sistema multimediale OpenAR, puoi scegliere quale profilo utente applicare al sistema e al veicolo. Per un'esperienza di guida completamente personalizzata, puoi configurare un massimo di 5 profili utente diversi. Premi questo tasto se non disponi ancora di un profilo utente. Segui quindi le istruzioni sullo schermo per creare un profilo aggiuntivo. Infine, seleziona le impostazioni salvate da sistema, come i tuoi account MyRenault e Google, Consumo e cronologia di navigazione Visualizzazione schermate e associazione del telefono. Puoi inoltre recuperare le impostazioni per sedile, sistema Multisense, radio e assistente alla guida. Puoi modificare diverse impostazioni dalla pagina del tuo profilo. Per accedervi, scorri lo schermo verso il basso per aprire il centro notifiche. Seleziona il tuo profilo. Quindi, modifica le impostazioni che vuoi, il nome del profilo o l'immagine associata. Seleziona Protezione profilo per modificare la modalità di blocco del profilo. Infine, puoi configurare i tuoi account MyRenault e Google. Dall'icona Impostazioni puoi gestire i profili e l'account oppure eliminare il tuo profilo. Per ragioni di sicurezza, eseguire sempre queste operazioni a veicolo fermo.